Siamo nella Chiesa Cristiana Evangelica Assemblea di Dio in Italia di Parma per la riunione di preghiera. Salutiamo coloro che ci seguono attraverso i social. Prima di pregare vogliamo leggere e meditare insieme la parola di Dio con la preghiera che Dio parli al nostro cuore. Leggiamo nel Libro dei Numeri, capitolo 13, dal versetto 17. Un testo che conosciamo, ma la parola di Dio è come un diamante, da qualsiasi angolazione la vediamo, ne possiamo scorgere la bellezza e la preziosità. Ripeto, Libro dei Numeri, capitolo 13, versetto 17, dice Mosè dunque mandò i dodici esploratori a esplorare il paese di Cana e disse loro Andate su di qua per il mezzogiorno, poi salirete sui monti e vedrete che paese è, che popolo lo abita, se forte o debole, se poco o molto numeroso. Com'è il paese che abita, se buono o cattivo, e come le città dove abita, se sono degli accampamenti o dei luoghi fortificati. E com'è il terreno, se grasso o magro, se ci sono alberi o no. Abbiate coraggio e portate dei frutti del paese. Era il tempo che cominciava a maturare l'uva. Quelli dunque salirono ad esplorare il paese, dal deserto di Sin fino a Reob, sulla via di Amat. Salirono per il mezzogiorno e andarono fino a Edron, dove erano Aiman, Sesai e Talmai, figli di Anak. Edron era stata costruita sette anni prima di Soan in Egitto. E giunsero fino alla valle d'Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due con una stanga e presero anche delle melograne e dei fichi. Quel luogo fu chiamato valle d'Escol, a motivo del grappolo d'uva, che i figli di Israele vi tagliarono. E alla fine di 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè, Aronne e tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran. A Cades riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. E fecero il loro racconto dicendo Noi arrivamo nel paese dove tu ci mandasti ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miere ed ecco dei suoi frutti. Soltanto il popolo che abita il paese è potente. Le città sono fortificate e grandissime. E abbiamo visto anche dei figli di Anach. Gli Amalekiti abitano là, parte meridionale del paese. Gli Ittiti, Gebusei, gli Amorrei. La regione Montuosa e Cannei abitano presso il mare, luogo e lungo il Giordano. E Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse Saliamo pure e conquistiamo il paese poiché possiamo riuscirci benissimo. Fin qui la lettura della parola del Signore. Il testo che abbiamo letto è un testo che tutti noi conosciamo. Chi è avvezzo con la Bibbia, con la parola di Dio, avrà sicuramente letto tante volte e avrà pure sentito diverse predicazioni. Si parla in questo passo della scrittura del momento per il popolo di Israele, secondo i tempi e la volontà di Dio, di iniziare la conquista della terra promessa. E purtroppo però non avvenne. Non per colpa di Dio, ma per colpa ovviamente del popolo di Israele, che mancò di fede. Fratelli e sorelli, in Cristo ricordiamoci che se noi veniamo meno nella fede nel Signore noi non realizzeremo tutto quello che Dio per la sua grazia ha già provveduto nel suo figliuolo. Noi dobbiamo soltanto ubbidire, dobbiamo soltanto realizzare e possedere ciò che il Signore ha messo a nostra completa disposizione per quanto riguarda i beni spirituali, le ricchezze della grazia. Prima di iniziare la conquista della terra promessa, Dio chiese attraverso Mosè al popolo di andare ed esplorare quel paese. Perché? Perché il popolo doveva vedere, doveva considerare quello che Dio aveva detto corrispondeva alla realtà. Ecco perché presero un esploratore per tribù e li mandarono. Infatti tutti e dodici gli esploratori portarono un esito favorevole per quanto riguardava il tipo di terreno, di terra. Tutti dissero che era qualcosa di straordinario, di glorioso. C'era latte e miele, un'espressione che troviamo spesso nella scrittura. Perché? Perché era una terra talmente rigogliosa che le mucche non dovevano essere multe e usciva latte da sole. Dai favi scorreva miele in abbondanza, tanto quella terra era feconda. e gli esploratori, in ubbidienza a quello che Dio aveva chiesto, agirono e andarono e presero dei prodotti della terra. Infatti Mosè era stato chiaro, dice il versetto 17, Mosè dunque mandò a esplorare il paese di Cane e disse andate su di qua per il mezzogiorno, poi salirete sui monti e vedrete che paese è. Notate, non dice di vedere gli abitanti del paese. Voi vedete che paese è. E poi dice e che popolo lo abita. Se forte o debole, se poco o molto numeroso. com'è il paese, se è un paese buono o cattivo, dice il versetto 19, e come sono le città dove abita, se sono degli accampiamenti e dei luoghi fortificati. E poi dice il versetto 20, era il tempo che si cominciava a maturare l'uva, più o meno in questo periodo. Pensate che lì in Israele c'erano addirittura due raccolti d'uva all'anno. Qualcosa di straordinario, qualcosa di particolare. Sapete ancora oggi i frutti di quella terra sono frutti straordinari, particolari. Notate, qui viene messo un particolare sull'uva. Poi dice il versetto 23 E giunsero fino alla valle d'Escol dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portavano in due con una stanga e presero anche delle melograne e dei fichi. Presero un grappolo d'uva così grande che fu necessario che due persone misero questo grappolo d'uva ad una stanga e lo legarono e lo portarono. Qualcuno dice che quel grappolo d'uva poteva pesare anche 30 kg. Qualcosa di straordinario. Qualcosa di particolare. Stiamo arrivando a questo grappolo d'uva perché questa sera vorrei parlarvi e infatti ho dato un titolo alla meditazione il grappolo d'uva. Il grappolo d'uva. Non so se leggendo questo passo vi siete mai soffermati a considerare questo grappolo d'uva. Non so se vi piace l'uva. A me piace tanto l'uva da tavola anche se poi ho scoperto che ultimamente c'è un'uva miracolosa che mia moglie riesce a comprare che non ha i semi. Non so, è una cosa impressionante. Non sono abituato io a mangiare l'uva senza semi. A me piace tantissimo. Infatti prima di scendere ho mangiato anche un bel grappolo d'uva. Un grappolo d'uva. Dice ancora il versetto 24 quel luogo fu chiamato valle d'escol valle del grappolo. Addirittura chiamarono quel luogo la valle del grappolo a motivo del grappolo d'uva che i figli di Israele vi tagliarono. Versetto 26 E andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran a Cades e riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. Immaginate Mosè e Aronne che avevano un 80 un 83 anni in quel periodo uomini abbastanza navigati nella vita Aronne hai mai visto un grappolo d'uva così? No fratello mio mai capitato ma fatemi vedere avete notato come l'attenzione non viene messa sui fichi sulle melograne ma su quel grappolo d'uva il grappolo d'uva come dice fratello ma di che cosa ci vuoi parlare? Allora il deserto riferito rapportato a noi ci parla della nostra vita sulla terra la cana ci parla della terra promessa e del cielo della gloria eterna il giordano ci parla della morte dell'esperienza che ci introduce nella terra promessa quella terra che Gesù ha provveduto per noi e allora questo grappolo d'uva è un assaggio è una rivelazione per noi credenti sulla terra di quello che ci sarà nel cielo l'apostolo paolo lo sapete come lo chiama il grappolo d'uva la caparra dello spirito la caparra dello spirito o il pegno della nostra eredità la caparra il sigillo la caparra dello spirito questo è quel grappolo d'uva certo è che quella generazione vide quel grappolo d'uva ma non poté mangiare di quell'uva nella terra promessa Giosuè mangiò di quell'uva nella terra promessa e allora fratelli e sorelle ricordiamoci una cosa molto importante questo grappolo d'uva ci parla di quella che è l'opera dello spirito santo perché noi possiamo qui sulla terra assaporare gustare realizzare sebbene in piccolissima parte quelli che saranno i beni eterni quelle che saranno le ricchezze nella gloria eterna e io mi permetto di dire credo voi insieme a me se quello che io e voi abbiamo realizzato finora sulla terra da credenti da figli di Dio delle ricchezze della grazia dei beni celesti dei beni spirituali è così glorioso meraviglioso non riesco a immaginare quello che noi realizzeremo nel cielo quando ci troveremo me lo concedete questa espressione nel vigneto di Dio se soltanto un grappolo d'uva è di questa portata che cosa sarà quando ci troveremo nel vigneto di Dio quando ci troveremo alla presenza del Signore e allora vorrei considerare tre ricchezze straordinarie che ci sono nel cielo che lo Spirito Santo ci fa assaporare sebbene in parte perché il nostro corpo è limitato perché noi siamo limitati qui sulla terra il primo grappolo d'uva il primo bene che noi realizzeremo nel cielo che qui assaporiamo è la presenza di Gesù il glorioso Gesù è con noi è vero fratelli e sorelle e se la presenza di Gesù qui sulla terra con noi è così preziosa figuratevi come sarà quando noi saremo alla presenza di Gesù perché questa è la differenza sostanziale ora Gesù è con noi in cielo noi saremo con Gesù Gesù con noi e l'apostolo Paolo dice ma se Dio è con noi chi sarà contro di noi ecco perché l'apostolo Paolo poi dice anche notate il nesso il grappolo d'uva se Dio è con noi chi sarà contro di noi fratelli io preferisco partire ed essere col Signore perché cosa di gran lunga migliore essere col Signore la presenza di Gesù che io e voi realizziamo qui sulla terra è soltanto un piccolissimo assaggio di quello che noi realizzeremo quando saremo nel cielo alleluia sarà qualcosa di straordinario di meraviglioso di glorioso fratelli e sorelle che il Signore chissà forse non ha voluto rivelarci pienamente perché altrimenti la smania dei credenti di partire sarebbe stata talmente tanto che qui sulla terra non sarebbe rimasta la Chiesa ecco perché quando noi assaporiamo questo grappolo d'uva sulla terra possiamo unire insieme allo Spirito Santo come Chiese e dire vieni Signore Gesù vieni Signore Gesù vogliamo essere con te non che noi non vogliamo essere qui perché questo grappolo d'uva ci fa considerare quello che noi realizzeremo quando staremo con te Signore e allora soltanto al pensiero il nostro cuore vibra d'amore per te perché vogliamo essere con Gesù alleluia un giorno Gesù disse a Marta la quale vedeva altro che grappolo d'uva la morte la sofferenza suo fratello era morto non c'era più era stato posto in una tomba Marta se tu credi vedrai la gloria di Dio e Marta vide quel grappolo d'uva Giobbe invece dirà qualcosa di più i miei occhi lo vedranno non quelli di un altro qui vediamo la gloria di Dio in cielo vedremo Gesù il glorioso alleluia è soltanto un grappolo d'uva quello che stiamo realizzando per quanto sia straordinario grappolo d'uva che non si trova nel deserto eh fratelli ricordiamolo il vigneto è nel cielo i beni i frutti sono nella gloria eterna ma ci viene portato come a dire dallo spirito santo perché lo spirito santo è colui che ci ritrae dal vivo Cristo Gesù Gesù sebbene in una piccola parte Gesù che ora regna in noi che bello Gesù che regna nella nostra vita Gesù che regna nel nostro cuore Gesù che regna nelle nostre famiglie Gesù che regna nella nostra comunità però questo è soltanto un grappolo d'uva quando invece saremo alla presenza del trono dell'agnello sarà tutta un'altra cosa sarà tutta un'altra cosa vedere Gesù qui regnare è la caparra è un acconto è un anticipo è una piccola parte Signore continua a regnare in noi perché questo ci possa tenere fedeli a te in modo che noi potremmo vedere l'agnello regnare sapete io e voi vedremo Gesù l'agnello regnare soltanto se egli regna nei nostri cuori per tutto il tempo della nostra vita terrena la presenza di Gesù il glorioso ma questo grappolo d'uva per lo spirito santo ci parla anche della gloria di Dio alleluia la gloria di Dio in più occasioni sia nell'antico che nel nuovo testamento noi troviamo un'espressione bellissima che fa parte anche di una preghiera che troviamo nel libro dei salmi Dio che visita il suo popolo Dio che visita la sua chiesa questo grappolo d'uva ci parla della visitazione di Dio sapete a me piace molto questa espressione Dio che visita il suo popolo Dio ha visitato il suo popolo Deo eterno riguarda dal cielo e visita la tua vigna espressioni come queste le troviamo dicevo spesso nella Bibbia e dicevo a me piace l'espressione della visitazione di Dio perché è un termine completo quando Dio ci visita vuol dire che Dio ci conosce vuol dire che Dio sa dove siamo vuol dire che Dio è interessato a noi vuol dire che la sua presenza è lì vuol dire che Egli ha il suo sguardo su di noi vuol dire che Egli mette mano vuol dire che Egli agisce vuol dire che Egli ci conosce vuol dire che Egli compie opere potente il termine il termine visitazione dall'alto è un termine completo alleluia Dio che visita il suo popolo alleluia ma poi noi saremo alla presenza di colui che è il glorioso e dice un termine bellissimo l'apostolo Paolo Dio che visita il suo popolo infatti quando Gesù per esempio fece delle opere potenti delle persone usavano delle espressioni come Dio ha visitato il suo popolo sapete cosa dice l'apostolo Paolo per quanto riguarda la gloria eterna Dio sarà tutto in tutti è di più di una visitazione è di più di una visitazione è soltanto un grappolo d'uva ma è qualcosa di glorioso di quello che noi realizzeremo nel cielo alleluia dice ancora l'apostolo Paolo Cristo in voi speranza della gloria la presenza di Cristo nella nostra vita produce la speranza della gloria della gloria eterna del cielo il grappolo 2 ci parla della presenza di Gesù il glorioso ci parla della gloria maestosa di Dio e ci parla infine della gioia della gloria eterna l'uva il vino simbolo della gioia simbolo dell'allegrezza io e voi qui sulla terra realizziamo la gioia del perdono e quando noi realizziamo la gioia del perdono perché ci ravvediamo dice la Bibbia che anche gli angeli fanno festa non è la loro festa perché gli angeli non si possono rallegrare per la redenzione perché loro non sono stati redenti si rallegrano per la redenzione dei fedeli dei figli di Dio dei credenti e poi ci sarà una festa nel cielo vedete gli angeli che si rallegrano quando soltanto un peccatore si ravvete si rallegrano sono giunte le nozze dell'agnello rallegriamoci sapete Gesù è l'agnello della sposa non degli angeli è lo sposo della chiesa non degli angeli noi parteciperemo alla festa alle feste dell'agnello noi diremo degno è l'agnello che è stato immolato per la nostra redenzione e ci sarà la gioia e ci sarà la festa a fratelli e sorelle gloria a Dio gioia in cielo la gioia per il perdono Gesù diceva ai suoi discepoli che li vedeva tristi perché lui aveva detto che se ne sarebbe andato vogliamo parafrasare io entro nella terra promessa perché il vostro cuore è triste non siate tristi abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me io vado a prepararvi un luogo quando vi avrò preparato questo luogo verrò e vi accoglierò presso di me sapete che cosa ci dirà il Signore quando io e voi per la grazia di Dio oltrepasseremo la soglia del cielo entra nella gioia del tuo Signore entra le vogliamo sentire quelle parole qui abbiamo la gioia della redenzione abbiamo la gioia del perdono abbiamo la gioia che sappiamo che siamo figli di Dio che siamo salvati e un giorno saremo col Signore ma noi aspettiamo il tempo nel quale entreremo nella gloria eterna nella gioia del Signore dove Gesù ci dirà entra nella gioia del tuo Signore e non ci sarà più il pianto non ci sarà più lo stridore non ci sarà più la sofferenza se questo grappolo d'uva è soltanto un acconto se quello che io e voi realizziamo dal momento che abbiamo accettato Gesù nella nostra vita è soltanto un acconto che cosa sarà nel cielo non riesco ad arrivarci ma so che sarà meraviglioso allora quando passeremo il Giordano fratelli e sorelle non è una sconfitta non è una cosa brutta è il tempo è il mezzo attraverso il quale noi passeremo dal tempo all'eternità da questa vita sulla terra per quanto sia bella col Signore sarà ancora più bella insieme al Signore perché se bello è stato l'inizio e bello è il cammino cristiano gloriosa sarà la fine e questo grappolo d'uva questa sera ci parla delle ricchezze della grazia che sono straordinarie che producono un desiderio nel nostro cuore il desiderio di essere col Signore perché dice l'Apostolo Paolo è cosa di gran lunga migliore vogliamo dire questa sera vieni Signore Gesù io il vigneto lo voglio vedere io Gesù lo voglio incontrare perché sarà qualcosa di straordinario perché se soltanto questo grappolo d'uva ci fa considerare quello che c'è nella terra promessa quando arriveremo lì sarà una festa vuoi mancare l'appuntamento no per nulla al mondo per nulla al mondo vogliamo alzarci fratelli e sorelle vogliamo questa sera pregare grazie a tutti